Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di questa nuova iniziativa da parte di Teleton dove mi ha dato questo cuore di cioccolato realizzato da Cafferel che era esclusiva appunto della fondazione Teleton e questi cuori di cioccolato sono al centro di un'iniziativa solidale che avrà luogo in migliaia di città italiane soprattutto questo fine settimana il 18 e il 19 dicembre dove durante queste giornate infatti saranno distribuite dai volontari in più di 3000 piazze come omaggio di ringraziamento per le donazioni a sostegno della ricerca delle malattie genetiche rare l'invito di fondazione Teleton è proprio la ricerca dona e dona per la ricerca quindi anche voi potete partecipare a questa catena di solidità per sostenere la ricerca e donare speranze concrete, terapie, future a tutte le persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie ragazzi vi invito a comprare questo cuore soprattutto nelle piazze di questo fine settimana di 18-19 dicembre troverete migliaia di volontari dove potete acquistare questo cuore di cioccolato ma non solo potete trovarlo anche sul sito del Teleton e vi invito comunque ad acquistarlo così potete aiutare e sostenere la ricerca potete trovarlo sia al latte che al fondente ma anche al latte con granella di biscotto lascio il link e tutti i riferimenti qui sotto e ringrazio Teleton per questo cuore di cioccolato